Mattia Cassi ha un quindicismo posto sull'Auberor di Wengen, quarto top in prova, un po' più dietro in gara, comunque sicuramente una bella prestazione, cosa ci racconti? In prove riesco ad essere forse un po' più sciolto, in gara oggi già sono riuscito a mettermi meglio in gara, sono un po' più contento, non è ancora il top, non sono ancora soddisfatto, però piano piano sta girando.